Signori buongiorno, oggi è sabato, il ricordo del cattivo tempo dei giorni scorsi resta solo un ricordo. Oggi è una gran bella giornata, la temperatura è autunnale e noi iniziamo subito con il nostro coniglio all'estima. Sono arrivati i pomodori, vi ricordo che i conigli sono cinque, vi ricordo che c'è ancora spazio per qualche ordinanza. Appena arrivato, freschissimo, agnellino da latte, non lo perdete, toscano. Allora entriamo velocemente in banco con le nostre salsicce, bocconcino classico, bocconcino fior di latte e friarielli, salsicce a punta di coltello con fior di latte di vico, la nostra toscana, le cervellatine e l'autunno ci porta il ragù, quindi noi siamo operativi con gallinella e tracchia, la nostra salsiccia a punta di coltello e maiale, 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 prosciutto e costoletta meravigliosa come sempre. La prima parte è pronta. Un'altra espressione spesso inflazionata, aspettiamo ancora il rubino che esce dal comodo. Ebbene sì, il rubino c'è, tra poco siamo pronti. Insomma, per una inspiegabile congiunzione astrale, arriva il coniglio, si tuffa nel sugo e arriva il sole. Concludiamo con il banco, le nostre arette, cosciotti e petto di pulpo, alle spalle il tacchino, le salsicce farcite, le classiche polpette e polpettine, il nostro spietino, la gallinella e la tracchiolilla, gli hamburger al formaggio, le costolette, il brasato all'ortolano, i nostri peperoni farciti, rospi, poccocini di vitello, polpettone, l'agnellino da latte, passiamo alle cervellatine, il prosciutto di maiale, le cotolette di vitellino e gli impanati. Anche però ci abbiamo finito. Un bacio, un buon weekend a tutti e non perdetevi il nostro coniglio. Insomma lo so, spesso ho un tono da imbonitore, da venditore di piatti in televisione, però un po' è l'adrenalina, un po' i tempi distretti e un po' i 400 gradi del forno, ogni tanto qualche strafalcione me lo dovete passare. Ancora una volta buona domenica, alla settimana prossima. I'm crazy, baby I'm crazy, baby I'm crazy.